Simone Perotti scrittore saggista e come ama definirti marinaio recentemente autore del libro l'altra via costruirsi da soli una casa progettare per tutti una nuova vita innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito grazie a voi grazie a voi il suo libro è diviso in due parti ben intrecciate tra loro una più pratica in cui descrive l'autocostruzione della sua nuova casa e una più riflessiva in cui decostruisce il nostro attuale modello di società offrendo un'alternativa possibile ovvero un'altra via che lei ha messo in pratica inizio proprio chiedendole cos'è quest'altra via e cos'è la spinta a percorrerla? Beh allora questo libro nasce a continuazione non so se a conclusione ma comunque a continuazione di un percorso 15 anni fa ho lasciato il mondo del lavoro in azienda perché volevo vivere la mia vita in maniera diversa volevo accettare tutti i costi necessari per liberarmi da un contesto che avevo sì scelto perché io facevo un bel lavoro lavoravo nella comunicazione ho imparato tanto devo anche molto al mio lavoro ma era il 95 per cento della mia vita quando invece io sono sempre stato molto altro e sentivo di doverlo percorrere sentivo di doverlo fare a 41 anni dopo averci pensato per 12 quindi diciamo che all'epoca era anche un po un passo nel buio più di quanto non sia oggi perché non se ne parlava perché non c'erano libri perché anzi era una cosa da farsi praticamente come dei carbonari perché se lo dicevi in giro ti pigliavano per mato ma come butti via la carriera e il lavoro quello che è costruito fin qui lo stipendio i soldi la pensione quindi era un massacro non bisognava neanche provarci se si voleva andare avanti almeno a sperare e per per vivere diversamente per per andare in luoghi diversi a fare una vita completamente diversa sprecando il minimo possibile inquinando il minimo possibile andando contro tempo rispetto ai flussi ormai quasi non più praticabili diciamo così dei trasporti degli spostamenti delle mode dei degli avvenimenti di massa ecco e con un'idea di nuovo modello di vita che sentivo possibile sentivo anzi necessario tentare era tutto basato su un'idea diversa di me su una concezione della mia vita come la vita di un essere con molte dimensioni non solo con una non solo con quella del lavoro quella professionale quella del doubt death tipico della cultura mercantile veniva continuamente calpestato il tempo lo spazio e l'occasione per la mia spiritualità perché non c'era appunto alcun modo in quello schema di viverla della mia interiorità del mio silenzio dei miei bisogni di solitudine della mia creatività ero costretto a fare una vita inquinante perché quelle erano le regole diciamo no grandi spostamenti spesso inutili di taxi macchine aerei treni come se fossero tutte cose a impatto zero ero costretto a consumare cibo in modo diverso da quello che io ritenevo fosse giusto un tipo di cibo e anche una modalità e una quantità di cibo diversa da quella che ritengo giusta ero immerso in relazioni coatte dovute soprattutto al ruolo lo spazio per relazioni che nascessero da un'altra umanità che non avessero a che fare sempre con i soldi con il biglietto da visita non non ce n'era e quindi anche i miei pensieri erano diversi scaturivano da questo mix di cose che era abbastanza omologato dire il vero e quindi sentivo che 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 partorivo un'umanità una prestazione umana dei pensieri delle idee non adatte non adatte al benessere mio e non adatte credo alla possibilità mia eventuale con i pochi o tanti talenti che avessi di contribuire alla società in un modo più efficace io la società così com'è omologata che non avevo scelto che non avevo contribuito a costruire se non essendoci dentro a quella società io partecipavo e la tenevo su con la mia spalla come tutti quanti e quindi insomma questo schema di cose per lungo tempo ho pensato come un carbonaro dicevo che invece fosse fosse un insieme di regole un insieme di condizioni di atteggiamenti di approcci da modificare con l'ambizione di poter fare di meglio perché no con la sensazione che si potesse vivere anche al di fuori di quello schema lavoro pago pretendo spreco che la questione dei soldi fosse una gran bufala così come era proposta e che fosse una specie di ricatto tutto basato sulla paura orientato a tenerti al pezzo senza farti neppure pensare a ipotesi alternative e così ho immaginato uno schema che racconto nel mio libro adesso basta in avanti tutta in tanti libri diciamo da quindici anni a questa parte perché mi sono lungamente sia nella narrativa sia nella saggistica occupato di questo argomento per raccontare prima di tutto una testimonianza vera e poi per tentare di teorizzare qualcosa che andasse oltre l'esperienza insomma no per cercare di universalizzare il più possibile il ragionamento uscendo dalla semplice testimonianza e così le cose sono evolute è nata una grande community intorno a questi temi sui vari social network che nel frattempo sono nati eravamo all'inizio all'epoca prima sul mio blog simoneperotti.com sul resto dei vari mezzi intorno ai miei libri che hanno avuto molto seguito perché in qualche modo avevano non so se percorso i tempi perché poi insomma io mi abbeveravo a Senega quindi come dire diciamo che ne parlavamo da un po' di questo argomento nella nostra cultura solo che c'è alcune cose ce le eravamo un po' dimenticate fino fino agli anni 60 e 70 se ne era parlato molto insomma ne ha parlato fior di gette come tanto per dirne uno per Paolo Pasolini Bianciardi Parise tanti di quella generazione che abbiamo completamente non ascoltato infilandoci in un vicolo cieco nel quale io tentavo con i miei mezzi come potevo di uscire quindi il ragionamento è andato avanti se ne è parlato molto io ho fatto centinaia di presentazioni ho scritto molto sui giornali ho partecipato poi ho fatto anche una trasmissione televisiva televisiva su Rai 5 l'altra via è un'altra vita l'altra via il libro e quindi quando poi siamo arrivati a un ulteriore passo in avanti in quella direzione quindi io già vivevo in una casa che mi ero autocostruito in larga misura avevo già impostato un po' tutti i miei schemi di vita pseudo monastica o neo monastica se vogliamo definirla con un nome un po' altisonante ma certamente insomma solitaria il più possibile senza rompere le scatole né al pianeta né agli altri se non con qualche motivo particolare però appunto a un certo punto questa questa via si è evoluta ulteriormente con la decisione di vivere su quest'isola in fondo al peloponneso dove mi sono trovato con mia moglie nel momento in cui il covid ci bloccava tutti noi abbiamo preso il traghetto il 4 di marzo del 2020 con la sensazione che i ponti stessero saltando dietro di noi un po' ultimo elicottero da saigon come si dice e in effetti il decreto di conte credo sia del 9 quindi pochi giorni dopo dopo brevissimo era impossibile tornare in italia e quindi ci siamo trovati in un posto dove dovevamo stare due due mesi due tre mesi a iniziare dei lavori che avevamo pian pianino fatti da noi avrebbero richiesto molto tempo magari anche anni invece poi siamo tornati a dicembre in italia perché a quel punto anche dopo quando era possibile abbiamo deciso di rimanere perché ci eravamo infilati in un lavoro molto impegnativo quel lavoro era un lavoro di smontaggio diciamo così di una rudere di pietra piccolino ma insomma bello nel suo genere ovviamente decrepito che andava tutto tutto ripulito smontato in larga misura per poi poterlo restaurare e intorno a noi però isolati su quest'isola senza neanche gli isolani tra l'altro sembravano scioglilingua perché anche loro spaventati c'era lockdown anche in Grecia tutti tappati in casa i posti chiusi però si poteva comunque comprare il materiale perché te lo mettevano fuori dalla porta e tu lasciavi i soldi i greci sono straordinari nel vivere di niente nel trovare soluzioni anche molto artigianali alle cose della vita però insomma intorno succedeva quello che sappiamo no grande paura grande allarme grande tanti morti insomma un bel problema grande e in quel momento mi sembrava da quella posizione un po privilegiata diciamo no perché io stavo all'area aperta tutto il giorno e mascherina non abbiamo praticamente messe mai perché eravamo da soli sull'isola tra l'altro non c'era neanche un caso di covid insomma da quella postazione un po privilegiata vedevamo il mondo in ansia il mondo che ronzava come impazzito come in un alveare sotto minaccia e quindi ci sembrava mi sembrava di vedere una certa assonanza tra il tentare di salvare un vecchio rudere tentare di lavorarlo con pazienza senza buttare giù tutto col bulldozer e fare chissà quale nuova villetta come avrebbe fatto chi con un po più di soldi un pochino meno di pazienza si trovasse in quella situazione come si usa a fare spesso oggi assonanza tra questo lavoro molto di fino molto nel rispetto anche di questo oggetto di pietra fatto da chissà chi con fatica nel passato e il mondo che un po sembrava perdere pezzi pure lui no sembrava che stessero aprendosi delle crepe in muri ritenuti solidissimi che erano quelli della struttura del nostro della nostra società e mi sembrava che ci fosse in quella in quel momento bisogno di mi sia creato un ponte diciamo così intellettuale tra le mie mani che stavano lavorando la stanchezza di lavorarci ogni giorno facendo una fatica nera e però anche il bisogno di di guardare ai problemi che stavano capitando non solo sotto il profilo ovviamente del disagio del problema come facevano le autorità come facevano le persone anche adeguandosi a delle regole anche dure ma ma dal punto di vista di quello che noi potevamo effettivamente modificare forse che forse veniva in chiaro in quel momento per una circostanza straordinaria di quanto fossero fatte male alcune cose della nostra impostazione della società di quanto fossero ci fossimo fidati sempre che andava bene così e invece non andava bene così perché bastava una piccola perché in realtà sulle sulla scala delle delle calamità che potevano capitare che possono capitare a una società organizzata come la nostra questa pandemia questa pandemia che non era ebola non era cose terribili drammatiche eccetera pur drammatica era ma persino definibile da uno statistico diciamo così neppure come così grave però era bastato questo a a far saltare tutto a rompere i vincoli della socialità addirittura a mettere in crisi l'approvvigionamento delle materie primarie perché ci siamo andati veramente a un passo soprattutto nelle grandi città impedire tanti lavori che non potevano più essere fatti e quindi impedire anche la normale acquisizione di denaro di chi ci campa con quei lavori pensate basta pensare ai diciamo alle esercizi pubblici noi ristoranti bar sono andati tutti in crisi e ho immaginato davvero che quella circostanza non doveva passare non poteva passare come una tsunami che quando passa poi si tenta di ricominciare quello che si faceva prima ma dovesse essere qualcosa un'occasione per perdere per pensare riflettere infatti lei lo scrive nel suo libro che il lockdown non è stato soltanto un'esperienza negativa ma anche un'occasione per fermarci e per riflettere su ciò che non andava nelle nostre vite assolutamente assolutamente mai come in quel momento oddio io io le cose che in qualche modo si sono viste chiaramente come come non funzionanti durante la pandemia le avevo scritte 15 anni prima a partire dallo smart working a partire da quello che era già insensato di suo insomma prendere una macchina inquinare il pianeta uno solo dentro la macchina per un'ora andare in un ufficio dove sarei stato io e milioni di altre persone seduta a un tavolino con un computer davanti usando il telefono leggendo e lavorando al computer per poi fare un'altra ora e tornare a casa non è che ci volesse la pandemia per capire che era una stronzata chiedo scusa no però c'è ecco e questo quello che è successo cioè si sono viste meglio meglio le cose che però si vedevano già erano già chiare la disuguaglianza sociale di chi poi dopo ha la possibilità di reagire anche per esempio alla pandemia con risorse che altri non hanno l'assurdità di pagare per 35 anni il mutuo di una casa in cui non stiamo mai che quindi non si spiega perché l'abbiamo comprata perché siamo sempre altrove sia lavorando e sia nel tempo libero e uno dice ma scusa ti impegni per 35 anni a fare una cosa che poi dopo non usi e che non diventa il centro della tua vita ma non c'è qualcosa già che non va e che per di più nel momento della pandemia quando siamo costretti a starci si rivela inadeguata del tutto inadeguata perché non ha un minimo di sbocco nel verde perché è piccola per quattro persone magari che di solito non ci stanno mai tutte insieme ma quando poi sono costretti a starci si vede che non c'è lo spazio vitale per nessuno spesso neppure raggiunte o collegate bene con sistemi di comunicazione remota insomma luoghi insani già di per sé con una metodica insana di acquisizione di gestione eccetera e per di più terribilmente insani anche nel momento della necessità quindi insomma questa adesso non la faccio lunga ognuno lo sa qual è l'elenco delle cose che sono venute fuori io lo rifaccio nel libro e però lei nel libro stila una vera e propria lista delle cose nelle quali a suo parere negli ultimi decenni abbiamo creduto troppo poco e di quelle in cui al contrario abbiamo creduto troppo eh sì sì cioè si è rivelato come il non pensiero in una società più giusta più bella più meglio fatta meglio realizzata dalle case al lavoro passando per la scuola tutto quanto il non pensiero di questo ha prodotto una non organizzazione un non schema o uno schema raccoglieticcio casuale occasionale che non si ispirava a nessuna regola del benessere autentico o quantomeno molto poco e quantomeno certamente molto male e quindi è fin troppo semplice oggi paradossalmente vedere cosa non va nelle nostre vite quale tipo di organizzazione capestro abbiamo organizzato a partire dalla totalizzante dimensione del lavoro e del denaro e del consumo fino a alla invece totale marginalità di pezzi di noi che sono quelli della riflessione anche della cultura del sentimento di sé della relazione buona con gli altri insomma è talmente chiaro cosa non va che che fa un po' specie venisse giù un marziano io piglio sempre l'esempio del marziano che mi piace un sacco perché il marziano non sa niente di noi non sa cos'è la conad non sa cos'è la metropolitana non sa cos'è il plug-in hybrid e viene giù il marziano e tu gli devi dire come funzioniamo spieghi male al marziano perché il marziano che essendo marziano intelligente ti guarda secondo me fa un po' così con la testa e dice ma ma siete mi aspettavo meglio insomma cioè mi sembravate meglio visti dalla mia galassia e vedendovi da vicino mi pare che siete veramente messi male è talmente semplice vedere l'elenco delle cose che non vanno a cui non abbiamo pensato abbastanza e poi è anche semplice vedere le cose a cui abbiamo pensato troppo insomma siamo preda di una cultura di una specie di culto più che di una cultura della tecnologia a tutti i costi del pensiero tecnologico che ha partorito questa tecnologia che ormai ha sostituito le domande profonde le domande quelle intrinseche delle della vita delle persone basta chiedere alle persone dimmi le dieci volte in cui sei stato bene sei stato in equilibrio in armonia e dimmi queste cosa c'era quali erano gli elementi comuni di queste dieci circostanze in modo da cercare di fare un identikit della tua vita nel benessere così almeno c'è una mappa già le persone vanno in pap cioè non sanno rispondere non hanno una visione di sé perché non hanno il tempo per pensarci non hanno la cultura per farlo perché nessuno li ha educati a fare questo non hanno il tempo non hanno le circostanze non hanno la dimensione diciamo non hanno una postura filosofica che è quella invece normale che avevano 2500 anni fa i primi filosofi presocratici socrate eccetera i quali si mettevano lì guarda si guardavano intorno e dicevano vediamo cosa c'è e vediamo cosa va cosa non va cerchiamo di spiegarci i fenomeni facciamolo con l'intento dello scopritore dell'avventuriero che però ha l'obiettivo dopo aver capito un minimo di cose di farle meglio no di quindi questo che è un ragionamento molto terra terra non c'è nessuna diciamo chissà che impianto intellettuale dietro questo ragionamento è ancora più grave perché fosse un ragionamento sofisticato uno direbbe beh vabbè c'hai pensato tu che sei particolarmente intelligente ma la gente non ci ha pensato ma non è così è un ragionamento molto semplice e non pensare alle cose semplici significa descrivere in qualche modo lo stato della propria decadenza lei parla molto spesso di autenticità che significato da questa parola questa è una delle cose a cui abbiamo pensato poco secondo me troppo poco perché se è vero che nasciamo in un certo modo per fare una schematizzazione semplice frutto del dna dell'educazione che riceviamo nei primi anni insomma siamo un certo tipo di persone ecco ognuno poi sa a cosa ci si può riferire è altrettanto vero che noi possiamo cambiare possiamo modificare la percentuale diciamo degli ingredienti se non proprio cambiare gli ingredienti della nostra vita possiamo almeno modificarne l'incidenza però per modificarli per cambiare occorre avere un'idea di sé sul pronao del tempio di apollo di delfi c'erano delle frasi filosofiche pensate che pensi che bello quando il mondo della fede della religione verso la divinità era però condita dalla filosofia oggi non è più così una di queste era conosci te stesso che piacque talmente tanto a socrate che non vide quel tempio perché fu distrutto prima e ricostruito prima che nascesse lui ma nera conoscenza e questo conosci te stesso lo affascinava terribilmente no perché conosci te stesso implica che ci sia una certa difficoltà a conoscere se stessi cioè che le cose che ci riguardano siano tante quando si dice conosci te stesso a qualcuno quello pensa sempre a una roba che magari mi è sfuggita e forse se si applicasse un po conoscerebbe meglio ciò che lo compone ma non immagina che conoscendo se stessi ci si potrebbe accorgere per esempio di cose che non ci piacciono perché non è detto che conoscendo noi stessi viene fuori solo roba bella e forse viene fuori anche delle vengono fuori delle cose che non saremmo proprio così sereni nell'accettare nell'ammettere beh ecco uno spazio di lavoro per il cambiamento per esempio ma in generale pochi anni dopo talete quindi insomma sempre ai primordi della filosofia il poeta pindaro diceva una cosa ancora più interessante perché diceva diventa chi sei avendolo compreso quindi avendolo compreso è il conosci te stesso no quindi conosci te stesso per comprenderti e per comprendere una serie di cose a quel punto diventa chi sei che uno potrebbe dire scusa ma io sono già io come faccio a dover diventare io e no perché il conosci te stesso apre mondi su quello che effettivamente sei che devi ammettere che puoi modificare e non solo in questa fase c'è un altro concetto che poi paradossalmente troviamo 2500 anni due la 400 anni dopo in in frederich nietzsche quindi adesso la seconda metà dell'ottocento sì a lui piaceva molto questa frase perché perché lui era convinto che sì che l'uomo avesse una certa quota di energia una volontà di potenza come la chiamava lui capace di interrompere l'eterno ritorno dell'uguale come lo chiamava lui cioè era in grado di cambiare il gesto di girare sempre la clessidra facendo sempre lo stesso tempo esatto la stessa vita e allora in quella frase di pindaro c'è anche un altro aspetto diventa chi sei al significato di diventa l'uomo che non sei ancora se no non sarebbe necessario che puoi essere esatto non sarebbe necessario diventarlo che potresti essere potresti diventare perché tu ritieni che quella cosa riguardi la tua vita cioè ti piacerebbe essere quell'uomo lì e fallo se immettendoci dentro tutto l'impegno che serve per essere il più simile possibile a quell'idea che hai di te questo complica il concetto no perché allora occorre risposta alla domanda cos'è l'autenticità e quindi non ho fatto un giro a vuoto ci stiamo arrivando perché l'autenticità non è essere se stesso come a volte ci dice un po colpevolmente il nostro genitore quando siamo piccoli sì te stesso no è come dire come se un bambino che poverino è anche una mentalità magari semplice va in pappa in quel momento perché dice ma come io sono io mi dici di essere me stesso ma che vuol dire cioè non gliela devi spiegare questa frase almeno invece viene detta così agitandola come una clava che crea problemi di identità ma invece è importante diventare più simili possibili all'idea che si ha di sé significa smettere di essere se stessi che lo si è già per diventare ogni giorno un po' diversi da se stessi magari più simili all'idea che abbiamo di noi un'idea che è sotto la nostra responsabilità naturalmente no quindi da questo punto di vista il lavoro che io ho fatto cambiando poi praticamente diciamo così logisticamente la mia vita è quel che fanno tantissimi sia chiaro è questa è la foresta che sale che non fa rumori di cui nessuno parla ma è stato proprio questo cioè cercare di smettere di essere quello che ero prima quello che ero già immaginando io nel mio pensier mi fingo leopardiano no la finzione la fiction l'immaginazione immaginando di essere di poter diventare un uomo migliore facciamo stare che sia capace di farlo o qualcuno potrebbe dire che l'ho fatto o non l'ho fatto questo è del tutto irrilevante perché nella vita è importante seguire una rotta che si ritiene buona poi dopo di che si vedrà se ci si riesce o meno però tentando di diventare un uomo diverso questo sì impegnandomi facendo scelte pagando i prezzi sotto la mia responsabilità e quindi costruendo un nuovo modello valido per me soltanto certamente per me in questi 15 anni si è rivelato molto valido sono stati 15 anni più belli della mia vita ma io ed è per questo che ne ho scritto libri arrivo anche all'altra via quest'ultimo libro con l'idea che ci sia qualcosa di più e cioè che possiamo usare queste idee mie quelli di altri questo è irrilevante ma mettiamoci a riflettere di nuovo per costruire modelli validi non solo per se stessi ma anche per tante persone intorno a noi cosa vuol dire secondo lei essere liberi oggi sono reduce da un seminario di tre giorni con degli universitari a santa margherita ligure in cui abbiamo parlato esattamente di questo quando si fa questa domanda a persone diciamo che non si siano avvisate di questa domanda quindi che devono rispondere spontaneamente vengono fuori una serie di risposte piuttosto interessanti raramente però le persone rispondono raccontando quali sono gli ostacoli verso la libertà propri individuali tutti possono essere abbastanza d'accordo sul dire lo stato ci impedisce questo l'economia ci impedisce quest'altro la cultura generale ci impedisce chissà che cosa no tutti molto bravi e molto attenti a trovare le illibertà diciamo che vengono da fuori però però scarsamente nella storia la letteratura la filosofia la storia lo racconterò bene scarsamente nella storia dell'uomo gli impedimenti sono venuti da fuori non solo perché parafrasando il Vangelo di Matteo niente di ciò che viene da fuori ci può avvelenare da quello che c'è dentro che uno dice scusa ma se ci avvelenano certo che viene da fuori il veleno invece Matteo mette in guardia ti dice attenzione perché ciò che ci distrugge ciò che ci avvelena o ciò che ci danneggia viene da dentro ed è questo il punto per me la libertà è occuparsi di tutto ciò che è nel mio perimetro e che vorrei anche dire la butto un po giù dura però lo dico volentieri perché ci credo e che è il mio dovere esistenziale rimuovere perché vivere non vuol dire respirare tutti i giorni quello è il grado zero della vita dal punto di vista biologico vivere inizia vivere vero quello con la v maiuscola eh sì inizia quando io comincio a pormi le domande e nella condizione di responsabilità a tentare le risposte perché la mia vita evolva perché la mia vita si compia perché le mie eventuali facoltà si estrinsechino perché i miei eventuali talenti comincino a produrre effetti anche per gli altri perché la mia condotta sia esattamente in linea con le mie idee esattamente come pretendevano i filosofi del sesto e quinto secolo nelle colonie greche e in anatolia dove nasce la filosofia ecco sesto secolo avanti cristo e questo è il punto la libertà è accorgersi che tu quando parli con tua madre rispondi sempre male perché sei sotto schiaffo emotivo di una relazione non compiuta a cui tu non lavori e che quindi ti imporrà eccola la mancanza di libertà ti imporrà di essere un altro da quello che vorresti essere di non essere come potresti di non produrre gli effetti che dovresti e quindi di essere peggiore eccola una forma di non libertà a me faceva tanto ridere quando si gridava in piazza libertà libertà per un per un pezzo di carta che impediva o no di circolare per un periodo limitato perché prima di quel momento e dopo quel momento nessuno grida libertà perché al grido libertà bisognerebbe rispondere con è vero sono colpevole perché io tutte queste cose qua che adesso se volete vi faccio un elenco che stiamo qui tre giorni e mezzo tutte le cose che io dovrei fare per diventare un uomo libero in grado di capire senza coinvolgimenti emotivi eccessivi in grado di agire senza i limiti delle insicurezze delle paure dei sensi di colpa tutta questa roba qui uno non la fa però poi va in piazza a dire libertà libertà perché non può scendere a prendere l'aperitivo o non può aprire il bar per tre mesi che è un dramma mi rendo conto che lo stato lo deve aiutare economicamente ma non c'è da gridare libertà o quantomeno c'è da gridare libertà esattamente quanto il silenzio assordante del non grido libertà libertà ha segnato prima e segna oggi che è finito quel vincolo la nostra incapacità di capire cosa sia la libertà io dico prima io faccio il mio pezzo quando l'ho fatto tutto dato che eh sì dato che non basta me la prendo anche con te perché tu mi stai impedendo un altro pezzo ma l'altro potrebbe dire scusa eh ma fai prima parte tua abbi pazienza ecco questa mancanza di logica di propedeuticità questa mancanza di sensatezza e questa ipocrisia anche di parlare delle cose sempre quando sono riferita agli altri e mai quando riguardano noi e questa è una delle cose che più mi indispettisce devo dire mi irrita del mondo in cui viviamo e purtroppo gli intellettuali sono proprio quelli che dovrebbero dire attenzione aspetta fermate vi aiuto a rimettere le cose dritte in fila perché ci ho studiato e invece col cavolo che lo fanno anzi si appassionano all'una o all'altra dei partiti più in voga e fanno ulteriore casino oltretutto quindi quando un quando un filosofo accetta di stare o da una parte o dall'altra di un dualismo di contrapposizione in quel momento è delegittimato della parola filosofo perché il filosofo per definizione studierà comprenderà quanta roba buona c'è in questa versione dei fatti e quanta ce n'è in questa e cercherà una sintesi se non lo fa è un partigiano come gli altri quindi il primo vero atto di libertà è rendersi conto che liberi non siamo soprattutto è certo è certo ma come si fa a gridare libertà essendo che non siamo liberi da mai su milioni di cose andiamo a lavorare tutti nello stesso momento la mattina senza bisogno che i carabinieri ci suonino a casa lo facciamo spontaneamente questo è già interessante come diceva Pasolini torniamo tutti allo stesso orario facendo una vita chiaramente illogica perché basterebbe entrare al lavoro scaglionati non ci vuole prigugin voglio dire per capire questa cosa qua basta una roba se la chiedi a un bambino dice scusa ma perché non entrate ogni mezz'ora un po' perché così fate meno traffico su un accordo annullare ma che ve lo devo dire io gli adulti siete voi e comunque facciamo questo per tutta la vita l'ho detto già prima della casa impegniamo la nostra libertà economica per 40 anni per comprare una casa in un posto dove costa il doppio e dove si vive male e dove è brutto invece che pagarlo la metà impegnandosi quindi eventualmente per 15 e non per 30 o per 20 e non per 40 in un posto dove è molto più bello la casa è più bella e più grande la casa costa la metà e tu sei vincolato per metà del tempo dice sì ma lì non c'è lavoro ho capito ma anche questa è una questione che va messa in discussione ma che c'è un unico lavoro che possiamo fare solo quello e poi io io e milioni di altri hanno dimostrato in tutto il mondo che gran parte della gente va a lavorare per guadagnare i soldi che gli costa andare a lavorare per avere un tenore di vita che comunque no ma non solo proprio per andare a lavorare cioè ci sono persone che se smettessero di lavorare in questo preciso istante risparmierebbero soldi perché tra la macchina che devi avere i tempi che devi rispettare la benzina il gasolio l'ammortamento l'assicurazione il bollo tutte cose non obbligatorie perché si può vivere anche senza o con prezzi molto più bassi per vivere in quella città dove i costi sono il 30 per cento più alto diciamo l'esempio di milano non mi devo spiegare evidentemente ma come milano ce ne sono tante e poi devo avere quel dress code perché in certi ambienti devo andare vestito in quel modo e quindi sono altri soldi per comprare vestiti che in un altro posto non servono questo maglione me l'ha fatto mia suocera mi dura 40 anni è il tema del denaro rispetto ai vestiti invece dice sì ma infatti fai schifo come sei vestito ho capito ma è una scelta mia ma che te frega te mentre tu non puoi fare questa scelta perché vai in un posto dove sennò ti additano no e questa è un'altra forma di non libertà e posso andare avanti a fare un ripeto che sto qui tre giorni ecco tutto questo ha un costo che equivale o no al guadagno che ne ricavo perché questa cosa la faccio per lavoro di sostenere tutti questi costi è provato ma lo provo io quotidianamente a un mucchio di gente che incontro che il conto non torna perché poi c'è anche l'aperitivo che devi prendere con i colleghi cioè se fai un'analisi dei costi devi farla vera il regalo a colleghi che tu odi cordialmente perché il compleanno vabbè mettiamo 10 euro a testa e facciamo un regaletto tutta roba insensata in uno schema di vita che fa morire prima il cuore certamente e il portafoglio e che si può tranquillamente non fare risparmiando denaro tra l'altro e questo il paradosso dice sì accetto tutto questo però almeno no mi conviene economicamente manco quello se non per una fascia piccolissima di gente che guadagna un botto di soldi ma non fa non fa statistica questa c'è differenza tra l'essere isolati ed essere soli è certo che sì la solitudine ha un'accezione solo negativa nella nostra società chi è solo chi non partecipa chi non fa parte del gruppo chi non è presente nei momenti canonici e magari solo voglia starsene per conto suo o una persona più riservata viene immediatamente additata per non dire poi dei ragazzini che sono anche oggetto di bullismo per cose di questo tipo perché non hanno le categorie critiche per per capire sostenere le proprie scelte però è esattamente questa una delle cifre del nostro malessere non stare mai soli significa non avere il tempo la solitudine il silenzio la circostanza per poter pensare e poter magari dire a te quando ti incontrano qualcosa che è originale non le solite cose prese a prestito da quello che si sente e si vede in giro solitudine dovrebbe essere una delle componenti essenziali del mix di cose così tanto quanto stare con gli altri evidentemente che certamente una occasione anche di rigenerazione di relazione di compagnia anche di consolazione a volte anche questo fa parte delle nostre esigenze però certo una società come la nostra che ha evitato con tutti i mezzi possibili che la solitudine abbia anche e venga percepita come necessaria abbia anche un'immagine positiva è una società che fuori strada come come siamo noi che la viviamo un'altra via è dunque possibile abbiamo visto con la tua esperienza e pensi che stanno iniziando ad essere numerose le persone e che la stanno percorrendo certo che sì la pandemia ha certamente dato l'impressione che nulla sarebbe più stato come prima naturalmente era un'illusione perché la gran parte della gente ha ricominciato esattamente da dove aveva lasciato perdendo l'ennesima grande occasione per invece nel disagio nel problema nella drammaticità almeno tirar fuori qualcosa di buono da quello che ci stava accadendo però va detto che c'è una minoranza ma i cambiamenti avvengono sempre con i cambiamenti delle minoranze che invece si è fatta delle domande ha catalizzato il processo di cose che stava già pensando e di cose che non gli tornavano già prima perché insomma gente con la testa sul collo in giro ce n'è e si sta organizzando ognuno con i suoi mezzi ognuno con i suoi tempi ci mancherebbe non ci aspettiamo nessuna cambiamento radicale domani mattina alle nove però stanno già accadendo molte cose tanta gente che ha capito che stare in una città del nord e che non è la sua dove vive male e dove tra l'altro fa le stesse cose che può fare nella sua città d'origine magari no dove magari c'è anche la casa della nonna disponibile quindi può spendere meno insomma minime semplici accorgimenti e scelte date dall'esperienza che fanno ragionare delle degli avamposti dell'avanguardia diciamo di un nuovo modello di vita che si sta già realizzando sono tantissimi ognuno lo fa per conto suo poche interviste ai telegiornali ovviamente quindi noi non ne sappiamo niente ma la verità è che le cose stanno cambiando e come e temo che chi non cambia adesso stia perdendo un po' l'ultimo treno i treni non sono infiniti c'è sempre l'ultimo a un certo punto e non prendere l'ultimo non significa che poi è finita